Torna anche quest'anno Musica a Palazzo. La seconda edizione della manifestazione organizzata dal circolo Aclea PS Elio Vittorini, ovvero il gruppo vocale Amoris Letizia, sostenuta dall'Incourse Federation, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Caltanissetta, giunge alla sua seconda edizione. Due le giornate dedicate alla musica si comincerà il 9 dicembre con un concerto di tre cori alle 19.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, location concessa per l'evento dalla Sopraintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta. Questi cori di Appason Vocal Group, Resonanza Camera Chorus e gruppo vocale Amoris Letizia faranno un concerto ognuno con il suo repertorio, con le sue caratteristiche, ma si uniranno per una nuova proposta corale sempre all'interno dello stesso concerto. Il 10 dicembre alle ore 19 presso la chiesa San Domenico, invece si realizzerà la seconda e ultima giornata di questa seconda edizione. Avremo l'opportunità di poter vedere per la prima volta il docufilm che stiamo realizzando con il gruppo vocale e per la reggiera di Totto Pellegrino, riguardo Gian Domenico Martoretta, compositore del XVI secolo a Caltanissetta, la famiglia di Moncada e la nostra città. Ha visto un coinvolgimento enorme da parte di alcune professoresse come la professoressa Rosanna Zaffuto Rovello, la professoressa Marlina Castiglione, la professoressa Maria Antonella Balsano, per la ricerca e l'approfondimento di questo compositore sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista musicale. Grazie all'Erso di Palermo abbiamo potuto ammirare le meraviglie anche del Chiostro di San Domenico che vedrete all'interno di questo documentario. e si potranno notare altri posti noti della città che raccontano sempre della famiglia dei Moncada. Successivamente, sempre nella stessa serata, lancieremo la prima edizione del concorso internazionale per compositori Musica Palazzo che vedrà il suo svolgimento nel 2023 durante la terza edizione del Festival Musica Palazzo. E per ultimo, lasciamo lo spazio più importante alla rassegna corale che vedrà la partecipazione di numerose realtà corali del territorio ma anche da posti molto più lontani. L'iniziativa si svolgerà anche grazie alla collaborazione del Movi e dell'Associazione Alchimia. Quest'ultima infatti aprirà contemporaneamente la quinta edizione della manifestazione Il Casino della Città tra Storia, Letteratura e Territorio con il primo dei tre appuntamenti previsti e cioè la presentazione, sempre il 10 dicembre, del volume Il taccuino di Bon di Luigi Pirandello.